Il grande dibattito quando si parla di intelligenza artificiale sulla consulenza finanziaria è ma rimarranno i consulenti finanziari? E quindi la risposta è assolutamente sì, perché è chiaro che l'intelligenza artificiale permetterà un gigantesco aumento di qualità del servizio e di produttività, ma quello che poi è il tema centrale della consulenza finanziaria che è la relazione col cliente, quella riteniamo che sarà impossibile, che possa essere replicata dall'intelligenza artificiale. Quindi avremo un consulente finanziario potenziato, un tema di qualità del servizio e produttività, ma sempre più centrale nella relazione con il cliente.